Il Covid dopo l'Europeo di Toru in Polonia hanno soltanto rallentato la corsa verso l'Olimpia di Tokyo all'attreta milazzese Antonio Trio pronto a tagliare quest'altro importante traguardo. I due eminenti meeting di Palermo e di Savona serviranno soprattutto per testare la condizione fisica. Lavorerò per fare quantomeno il personale, quindi già la prima gara a Palermo servirà per rompere il ghiaccio, quindi mettere un po' di salti. E poi al meeting di Savona cercherò di continuare a inseguire il sogno olimpico, quindi di fare misure importanti. Tu sei un atleta a un certo livello, che esperienza è stata quella del Covid? È stata un'esperienza comunque pesante perché non è un virus, è una situazione da sottovalutare, perché è abbastanza dannosa sia a livello fisico che psicologico. Io da atleta ne ho risentito parecchio, mi ha completamente spezzato il fiato e comunque mi ha fatto nascere una paura di trasmetterlo a qualcuno a cui voglio bene e che comunque non reagisce come me. Quindi l'invito che faccio a tutti è di fare molta attenzione di non sottovalutare questo virus, che è veramente pesante. Visto che la tua carriera è fatta di centimetri, quanti centimetri mancano per Tokyo? È una ventina, però comunque non è impossibile, nulla è impossibile, è sicuramente una situazione difficile prendere tutti questi centimetri, però il lavoro non mi manca, la determinazione neanche e quindi sono convinto di riuscire a farcela. Poi succeda quel che deve succedere, però lavorerò sodo per riuscire ad andare a toglio e se non dovesse arrivare senza rimpianti sicuramente.